Lorenzo lo fai un pensiero anche alla classifica? Sì, sia alla classifica che alla maglia dei GPM, vedremo durante il giro come andrò io e come si svolgerà. Sto bene, sono ad un peso che non ho mai raggiunto e in salita spingo forte, perciò vedrò di dimostrarlo nelle prossime settimane. Io punterò già martedì e lì si vedrà chi va forte e chi meno e poi il Gran Sasso sarà una seconda prova.